Vuoi una tecnica semplice ed efficace per switchare da uno stato mentale disfunzionale quando ti senti in down, in difficoltà, bloccato, quando ti senti in un ambiente che per te non è piacevole, armonico? Bene, sarà quello che ti insegnerò oggi. Io mi chiamo Valerio Folloni e sono un esploratore delle dimensioni dell'anima. Aiuto i professionisti del benessere che si sentono bloccati in una stasi profonda e incapaci di esprimere il proprio valore a dar voce alla loro natura autentica e straordinaria in modo tale che possano testimoniare un cambiamento follemente felice. Bene, come ti dicevo oggi voglio insegnarti una tecnica semplice ma potentissima. Immagina di essere come un'antenna e come un'antenna sei in grado di percepire tutto quello che succede attorno a te. Attraverso i tuoi occhi puoi percepire tutto quello che ti circonda. Inizia proprio osservando quello che hai attorno a te. Attraverso le tue orecchie invece puoi percepire dei suoni, delle voci. diventa consapevole di quello che sta succedendo attorno a te. E attraverso il tuo corpo invece puoi diventare consapevole della tua postura, del tuo respiro, di quello che senti all'interno del tuo corpo, dei blocchi, delle tensioni, delle sensazioni, delle emozioni. Ecco, diventa consapevole di tutto quello che ti circonda, di quello che esiste nel qui e ora. E ora ti chiedo di chiudere gli occhi e continuare ad ascoltare quello che ascolti con le tue orecchie, osservare con gli occhi della mente quello che ti circonda e percepire quello che avviene dentro il tuo corpo. Mentre fai tutto questo, immagina di avere davanti a te una piccola manopola, una manopola di una radio che ti permette proprio di spostare e di sintonizzare la tua capacità percettiva verso ciò che realmente desideri ascoltare, desideri sentire, desideri vedere. Inizia proprio lentamente a muovere questa rotella e osserva come man mano che questa rotella gira incominci a escludere tutta una serie di frequenze che non ti interessano. incominci a escludere quei suoni, quelle voci che ti danno fastidio, incominci a escludere quelle immagini che ti danno fastidio o ti preoccupano e incominci ad escludere quelle sensazioni del corpo che fino ad ora hai sentito come disfunzionali, che ti stavano bloccando. E mentre giri questa rotella inizi a osservare come puoi darti il permesso di ascoltare solo quelle frequenze che sono veramente potenzianti per te. e quindi incominci a sentire dei suoni, delle voci che ti fanno stare bene. Cominci a vedere delle immagini luminose, colorate di un luogo che per te è di estrema pace e tranquillità, un luogo che per te è rigenerante. E osservi come nel corpo anche ciò che percepisci cambia. Cambia il tuo respiro, cambia la tua postura che lascia spazio a un rilassamento muscolare e cambiano anche le tue sensazioni ed emozioni. ecco che mentre percepisci questo luogo di pace e di armonia, questi suoni piacevoli, armonici e queste sensazioni di profondo rilassamento all'interno del tuo corpo, puoi darti il permesso di stringere il pollice e l'indice della tua mano destra creando una giusta pressione tra queste due dita in modo tale da andare ad ancorare quella sensazione che stai provando in questo momento e poi lascia andare. Ancora una volta porti l'attenzione a questa frequenza su cui hai deciso di sintonizzarti, una frequenza che è per te potenziante, che ti fa stare bene attraverso quello che senti con le tue orecchie, quello che vedi con i tuoi occhi e con l'occhio della mente o quello che senti all'interno del tuo corpo e ancora una volta vai a stringere insieme il pollice e l'indice della tua mano destra e poi lo lasci andare. Ripeti un'ultima volta questo esercizio diventando sempre più consapevole di quelle frequenze che ora stai ascoltando e che ti fanno stare bene attraverso le immagini che vedi i suoni che senti e ciò che percepisci nel tuo corpo come un profondo rilassamento e una profonda pace e ancora una volta vai a premere insieme l'indice e il pollice della mano destra e poi lascia andare. Ecco, quando ti senti pronto dopo qualche respiro profondo puoi riaprire gli occhi e ora sai che ogni volta in cui ti sentirai in uno stato di malessere potrai premere assieme l'indice e il pollice della mano destra esattamente così come li hai premuti finora per accedere e sintonizzarti in quella frequenza che ora hai sperimentato. Fammi sapere nei commenti com'è andata questa esperienza e come sei riuscito a metterla in pratica. Ciao! 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 Ciao!